Angela Ziegler è una dottoressa svizzera, impareggiabile guaritrice, una ricercatrice e un'irriducibile sostenitrice della pace. Da rinomato medico spostò le sue attenzioni nel campo della nanotecnologia applicata alle cure di ferite mortali e la sua esperienza sul campo la fece notare dal gruppo Overwatch. Assolutamente contrario all'utilizzo della tecnologia biotica per scoppi offensivi, bocciò molti progetti del gruppo, come il fucile biotico inventato da Thorbjorn. Quando Overwatch si sciolse, Mercy continuò ad aiutare i feriti sui campi di battaglia del mondo, grazie all'armatura Valkyria. Alimentata dalla tecnologia biotica, la tuta di Mercy le permette di curarsi di 20 punti vita al secondo se non subirà danni per 3 secondi. Grazie alle ali sul retro della tuta possiamo utilizzare l'abilità Angelo Custode per raggiungere i compagni velocemente, riattivabile ogni 2 secondi a un raggio di 30 metri. Mercy ha anche un'abilità di planata che le consente di gestire meglio le cadute e di volare intorno a Pharah. Potremo supportare i compagni in battaglia grazie a Caduce o Benefico, il bastone tramite il quale dispenseremo cure e potenziamenti. Funziona entro 15 metri e colpirà al compagno selezionato fornendo continuamente cure per 50 punti al secondo o 30% di danni bonus. Se più Mercy dovessero potenziare lo stesso compagno, i bonus si sommerebbero. La durata è a nostra discrezione e potremo curare anche le barriere e gli scudi innati, ma per esempio non potremo curare le armature fornite da Torbjorn o lo scudo di Reinhardt. Mercy ha anche un'arma per la difesa personale che si chiama Caduce o Punitivo. A 20 colpi nel caricatore, spara proiettili in direzione frontale con un ratio di 5 colpi al secondo per un danno di 20 punti a colpo. La ricarica dura un secondo e può fare headshot. La ultimate di Mercy è la risurrezione. Come dice il nome, questa abilità ci permetterà di rianimare tutti i compagni caduti che si trovino entro 15 metri e che non siano morti da più di 10 secondi. Chi morirà potrà essere rianimato anche attraverso le pareti e riavrà tutti i punti vita. Un indicatore ci informerà costantemente di quanti compagni potremo rianimare contemporaneamente dalla posizione attuale. Il Caduceo Benefico continua a curare il bersaglio anche se noi siamo voltati di spalle. Questo ci dà la possibilità di guardarci intorno e controllare l'eventuale arrivo dei nemici. Mercy ha solo 200 punti vita e non si può difendere in modo efficace. Per questo quando veniamo attaccati e la situazione si fa troppo pericolosa è preferibile usare l'abilità Angelo Custode per scappare in fretta in direzione di un compagno e farsi difendere. Riportare in vita i compagni caduti necessita del giusto tempismo. Anche se durante la rianimazione saranno invulnerabili se li facciamo tornare in gioco in mezzo a un gruppo di avversari li avremo solo condannati a morire ancora avendo inoltre sprecato la nostra mossa.